Qui la musica acustica viene esaltata ed è eccezionale, addirittura migliore rispetto a quella della Corte Malatestiana e del Teatro della Fortuna. Ad assicurarlo è il presidente dell'Orchestra Sinfonica Rossini, Saul Salucci, che ricorda che la trasmissione del suono agli spettatori è l'elemento principale di un concerto. Concerto che terranno questa sera proprio alla Corte Sant'Arcangelo con 14 elementi d'orchestra da camera e 36 componenti del coro del Teatro della Fortuna Mizzio Agostini. Il nuovo look del cortile pronto ad accogliere spettacoli, eventi e cinema all'aperto è stato mostrato in anteprima ai giornalisti, dal sindaco di Fano Massimo Seri e dall'assessore alla cultura Stefano Marchegiani, soddisfatti del lavoro svolto. Questo non è un voler togliere addetto ma un voler dare di più alla città. Certamente, noi abbiamo l'intenzione di aprire più monumenti possibili, l'uso anche quotidiano dei cittadini. In questo caso la riflessione sul museo da cui partiamo è quella di rilanciare il Palazzo Malatestiano, la Pianecoteca Civica, che entrerà nel sistema dei musei della provincia insieme al Palazzo Locale di Urbino e ai civici di Pesaro con la bigliettazione unica. Dobbiamo essere pronti per dare spazi dignitosi ma soprattutto per raccontare ai cittadini, ai turisti, quello che è lo spazio monumentale per eccellenza, che è la Corte Malatestiana con il suo palazzo, che può avere delle vocazioni di utilizzo assolutamente nuove, prestigiose, per essere utilizzata di più. Questa sperimentazione poi ha valorizzato ulteriormente il cortile Sant'Arcangelo, ha detto Marchegiani, anche se contiene meno sedute, 480, a differenza di 600 possi della Corte Malatestiana. Il primo cittadino invece ha specificato che questa operazione rientra in una strategia complessiva di riqualificazione degli spazi cittadini. Questo è uno spazio che la città d'estate non utilizzava, è uno spazio, un contenitore fra l'altro che dà molte suggestioni e con soddisfazione devo dire alcune persone che mi hanno accompagnato all'interno del cortile Sant'Arcangelo quando sono entrati hanno detto però effettivamente dà delle suggestioni importanti. Quindi noi siamo partiti con l'idea di voler rilanciare questa città, questo spazio dalle 17-23 iniziative passerà a 68 proposte, compresa la proiezione del cinema d'estate. Anche questo è uno servizio che questa città non aveva mai avuto e sono convinto che verranno anche da altre città per venirsi a vedere dei film all'aperto. Non dimentichiamo che a breve grazie ad un gruppo di associazioni che hanno partecipato al bando verranno riaperti anche il Bastione Sangallo.